Elettra Lamborghini punta all'Eurovision Song Contest 2023, quale carta deciso di tentare? Elettra Lamborghini pronta per l'Eurovision Song Contest? Stando a un'indiscrezione trappelata in esclusiva dal portale The People. La cantante avrebbe puntato alla famosa Kermes internazionale. Ma come potrebbe parteciparvi? Semplice, come fatto da Achille Lauro lo scorso anno, la Lamborghini sarebbe intenzionata a candidarsi per San Marino. Ecco quanto riportato dalla pagina Instagram di Gabriele Parpiglia. Esclusiva People. Elettra Lamborghini quest'anno tenterà la carta Festival di San Marino per accedere alla qualificazione dell'Eurovision Song Contest. La cantante è pronta per conquistare tutti con un pezzo mozzafiato. Siete curiosi di sentirla, nuovamente, cantare e, twercare sul palco? Esatto. Siete. Elettra. Siete curiosi che! Elettra. Diagù che! Siete curiosi di questa commento, Siete curiosi di Arenasbrelast? Siete curiosi che! Siete curiosi di quarantena parte che e sticko in un bel momento attş selato. Siete curiosi di conocer la carta Festival di Busan cheiva stato contato alla plate pena atención! Grazie.